Hashtag io apro. Il giorno dopo l'inizio della protesta di bar e ristoranti restano le sanzioni. Controllate dai carabinieri di Valdagno, i bar che hanno aderito a Suvizio e Creazzo, aperti oltre all'orario previsto dal DPCM, ma senza clienti all'interno. Per loro è prevista la sanzione 400 euro. A 90 vicentini i carabinieri hanno sanzionato il titolare del caffè chalet e con lui anche 17 clienti, che per solidarietà erano presenti dopo le 18 nel locale. Non ne fa una tragedia il titolare, che aveva messo in conto che avrebbe dovuto pagare la multa. Verso le 4 e mezza sono passati i vigili, abbiamo fatto due parole che mi spiegavano cosa andavo incontro, se aprivo, se non rispettavo le leggi che mi erano state imposta. Io gli ho detto che spero cosa rischiavo e comunque restavo fermo della mia idea. E così è stato Mattia, aperto e continuerà ad aprire. Noi comunque non vogliamo, vogliamo continuare tutelando i nostri clienti, quindi oltre al discorso delle distanze, delle sicurezze qua e là, anche che non rischiano di prendere multe, quindi questa sera vedremo come organizzarci per evitare inconvenienti verso di loro, principalmente che sono loro che ci fanno andare avanti. Molta la solidarietà espressa dai tanti clienti che frequentano il locale, non solo, ma l'adesione è ancora poca tra gli esercenti. Qualcuno mi ha detto che mi darà una mano a pagare la multa, anche se è l'ultimo dei problemi adesso la multa. Noi vogliamo appunto lavorare, è quello l'unico interesse. E c'è chi ha scelto di protestare sdramatizzando. A Torre Belvicino, Alessia Stocchero, titolare di un ristorante con Alessandro Stella, cliente ed amico, hanno creato un menù, al momento solo sulla carta, ma chissà in futuro, che bene interpreta il momento difficile. Ecco che il primo è un tris di pasticce alla conte, il secondo di carne, è una tagliata degli stipendi. I contorni hanno il colore delle zone delle regioni, mentre il dolce è un mille foglie di DPCM. Il tutto annaffiato da periodo brut, millesimato di promesse e mille di chiusure. A ringraziare lo staff, ridotto all'osso.